Castelli di Memoria è il progetto presentato dai solisti aquilani, finanziato dal Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica e da altri enti per 110.000 euro. Un'iniziativa che mette in luce i processi di ricostruzione sociale e culturale nei paesi del Cateresismico Aquilano. Coinvolti 10 comuni del Cateresismico Aquilano, ci sarà anche Amatrice, l'USRC, l'Università dell'Aquila, le cooperative di comunità, le proloquo, le associazioni attive nei territori. Castelli di Memoria coniuga la musica con l'arte, la cultura, la conoscenza dei territori. Castelli di Memoria è perché pensiamo a quei borghi dell'entroterra aquilano e anche oltre, perché sono coinvolti comune della provincia dell'Aquila, del Cratere, ma anche Amatrice del Cratere 2016, che in qualche maniera vogliamo contribuire a far rinascere attraverso manifestazioni culturali, attraverso i propri paesaggi, le proprie attività artigianali, commerciali e così via. Mettendo al centro la memoria, quindi l'identità di ogni singolo comune, di ogni singolo luogo, è fondamentale perché questo produce ricchezza, ma non dal punto di vista necessariamente economico. Produce ricchezza per una rinascita che è indispensabile e necessaria dopo tutto quello che è avvenuto dal 2009 in poi. Si sposa con la musica, ma anche con altro, con la cultura in generale, con l'aspetto turistico ambientale. Si terranno dei concerti dei solisti aquilani in dieci comuni del territorio aquilano e Amatrice, dove noi eseguiremo le quattro stagioni di Vivaldi, perché abbiamo pensato che era il brano che più identificava il rapporto stretto tra musica e natura. Ci saranno delle passeggiate patrimoniali, il walk and talk, dove saranno messe in risalto tutte le bellezze naturali, ma anche tutti gli aspetti artigianali, turistici, le ricchezze proprio dell'artigianato locale, ma anche le ricchezze enogastronomiche. E in alcuni luoghi si terranno anche delle mostre, dove ogni territorio potrà mettere in risalto il proprio patrimonio. Le giornate tipo vedranno appunto una passeggiata nei vari territori, con il concerto delle quattro stagioni di Vivaldi ad opera dei solisti, ma ci saranno anche delle mostre. Il calendario prevede appuntamenti dal 9 luglio al 27 agosto, con l'evento finale all'Aquila il 13 ottobre. Sarà prodotto anche un podcast di cinque puntate su Castelli di Memoria.